Avevo polo di Youtube, io sono Tirless, vi do benvenuti a questo nuovo video di Kuroi Marder Grazie per averlo detto voi, ma io voglio fare delle intro normali, perché non ce la possiamo... Ok, va bene, raga, non potrò mai fare delle intro normali quando ci sono questi qua Siamo su Kuroi Marder, questa volta vorrei essere il Marder Dato che l'altra volta sono stato innocente per tre volte, due delle tre volte ho fatto disastri uccidendo il Marder Quindi, ErenBlaze, dimmi Andiamo a giocare Ok, grazie, andiamo Benvenuti nella Maggioni di Erobrino Ovviamente sono innocente, anche io Io sono innocenti, sono autobianchi io Eh? Eh, ma siete troppo giovani Sì, scusami Tex Cos'è? Tempo del fascismo Eh, vabbè, bella... addirittura Io l'ho capito, ok? Beh, perché tu sei più vecchio di noi comunque Esatto, pischelli Sarà più o meno della mia età, Eren, alla fine Sì, esatto, siamo lì Siamo intorno ai 30 anni Sì, ma sì, ma ci diamo... ci scartiamo due anito Eren, ma ti rendi conto che sei più vicino ai 30 che ai 20? Come ti senti? Io? Sì Si sente molto Marder Marder, sento di tirarti più schiaffi di prima Madonna Se mi ripieni sulle chiappette sono anche contento No, prima che rimangono le mani incastrate nei piedi No Ma chi era costui? Lol Quello che ha tirato fuori il pugnale davanti a me? Uh Cos'era un po' Non era amichevole Non era amichevole Dammi i tuoi proiettili per la pistola Una lanna la pitta E' un piatto del male, esatto Uno, non era amichevole Due, non è il mio compleanno quindi non è il momento di tagliare la torta Oh shit Oh shit, roli La torta di crema No Io c'ho una pistola puntata con tre conti In questo momento di ansia voglio consigliare a tutti di cercare torta di crema su Google Immagini Vabbè, insomma, se cercano tanto torta di crema in italiano non è un problema Non c'è nulla di male Sì Ciao Ronald MacDonald Chi è Ronald MacDonald? Non si sa L'ho incrociato sulle scale nel bel mezzo del buio praticamente Io conosco solo Donald MacDonald Mamma mia, un saluto da Donald Donald MacDonald Che li vogliamo bene tantissimo Ronald MacDonald Oh raga, ci sono già cinque lane qua, eh Marder deve iniziare a chillare Oh shit, what up? Uh, ma questo è un... Oh Here comes the real Marder Here comes the boy Esatto Secondo me Marder è... Eh, aspetta Siccome arrivo sul monociclo potrebbe essere il pagliaccio Dani, sei tu? Se fossi io il Marder, raga, sarei morto almeno un minuto fa Se quello è vero È Shrek il Marder Fuori dalla mia palude Io ho incontrato soltanto Ronald In giro Oh, 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 qualcuno ha aperto una chest Oh, 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 vedo un Uganda Guarda, tutti in tutta la casa aprono chest Forse quella cosa può stare anche tra... Sì, effettivamente Ok Raga, perché c'è una porta che si chiude davanti a me? Ehi Ehi Salve Ah, siete invisibili l'uno all'altro? No, 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 era nascosto l'infomio Ma sei il Marder? Eh, nice No, no, no Perché mi segui allora? Mi stavo controllo nelle varie stanze io Beh, non mi faccio problemi a spararti, eh Cioè, per me l'importante è che sopravviva io Poi Roll Dei miei amici Ronny, cosa stai facendo lì? Raga, ma perché? Perché io devo sempre trovarmi nei posti peggiori? Perché? Scusami, dove ti trovi? È buio Non è buio, Tec È abbastanza illuminato Marderer Ne mancano solo due Uh, che colori mancano? Azzurro-verde Ok Azzurro-verde Buono Marderer Quando ho intenzione di fare cose Oh, 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 oh Verde lime Uh, spice Raga, qua c'è un botto di gente Eh, mi sa che sei il nacco lugandese, Tec Aia Aia Raga È stato un momento sbagliatissimo Raga Io mi sacrifico Raga, eccolo Raga, dove, dove, dove Ha la skin martirosa Ha la skin martirosa Uh Ce l'ho davanti Dio mio, non voglio vederlo Io ho assistito un colpo Non me Rip Ok È lui Eccolo No Ah Ah Eh, è stato assassinato Raga, manca una lana Una fucking lana Che colore Sì Sì Grande Con la lana azzurrina Yeah Ieri in Marderer Ero io No No Mardia Ragazzi Get your fucking chicken Alfredo Raga, cioè guardate che nel giro di due minuti Ah, così subito me la fai partire Sì Dammi il tempo di parlare tra Cioè, eh, che cazzo Vabbè, va bene Comunque, sì, cioè dopo un minuto e mezzo C'erano già le lane ovunque Raga, c'era già un mezzo Oh yes Questo si chiama gioco di squadra E non stare mezz'ora Di È lui, Mard? Un salutone a Federic Con il quale abbiamo litigato Motivo per cui è assente oggi Sì, esatto Arriverà un video contro E Taro, perché litighiamo con tutte le persone Che fanno le vacanze? Siamo forse gelosi? Sì, decisamente Io personalmente lo sono Beh, raga Tra un po' litigheremo tutti Sì, esatto Andiamo tutti quanti in vacanza Contemporaneamente, tra l'altro Io ho litigato con Tiar Perché lui ha mangiato L'ultima porzione di bifo Lasagne Caffè sante Fettuccini Lasagne No, ma sai quella è la cosa peggiore? È quando leggi tipo La pizza al proschiuto O meglio Quando produttano Proschiuto Il dannato proschiuto E salami Homer Simpson Peperoni Sono io Homer Simpson? Eh, mi sa che sei tu Ciao Stiamo insieme E io ti ho piano visto pezzare la lana Va bene, ok Ma non è detto che sia lui, eh Sei, di lui in marda Gli scarico di cinque colpi Io in canna Dai Spara meglio a dosso Sei corra... Sei... Perché so Voglio dire sei scordedio? Secondo me... Secondo me è ancora Tiar Il marderer Se vuoi ti sparano Non è un problema Stranamente Spara Ehi Pettuccini Tuttavolta se mi becco il marderer Gli scarico l'intero caricatore in faccia Nice Non sarà carino Mi rendo paura Io no Ah È qui È Tiar È Tiar È Tiar Ancora Tiar Tu chi sei? Non può essere il marderer Oddio mio E chi è il bambino Derp? No, secondo me tu sei te Che mi segue Raga Lo impiombato come si der Chi è che ti segue? Nice one No La persona che mi girava troppo attorno Raga è Tiar È Tiar Sì, sono io Era capitano in America Eh, va bene Chissà Quello ho detto ragazzi Quella vocina Cioè che tenta di Di camuffare la sua emozione No, tenta di parlare di altro Sì, ma c'è Dani che non parla di nient'anni In silenzio ha visto la partita Ma è vero Sì, ma ho parlato di Cicchero Alfredo Eh, raga Perché Dani l'abbiamo pagato poco Esatto, l'abbiamo pagato 3 ore e 50 Per questo video Quindi Minchia magari E ci sto rimettendo Esatto E sta parlando per 3 ore e 50 È comunque più Di quanto faccio nei miei video Che non durano 10 minuti Sì, effettivamente Nice Sai che tra l'altro Quella canzone lì Ha il copyright, Dani? Ma io l'ho monetizzata È un midroll Strano Boh, sappi che Io l'ho cercata scrivendo sitcom non copyright In realtà sono andato a cercare È copyright tantissima Mamma mia Io ce l'ho là Puoi se mi... Arriva un mega... Un mega strike Hashtag dell'Arts Freebooter Esatto Freebooty Posso un po' di booty a gratis Grazie Oh, yes Nope Come nope Eren Sei proprio la persona da qui Speravo di poterlo ricevere Oh, capitano asiatico È lui, è lui, è lui, è lui Cos'è sto razzi? Se mi chiamo più falte Pare tipo quando ho riuscito al liceo Come c'è Amirica ci sarà anche Asia Guarda, se sei... Tu sei il murderer, no? Sì Quanti HP hai? Cinque e mezzo Quattro Tac, tac, morto TR Sembrano tipo quei film dove il bulletto Pratico Ahia, eh Oh, no! Ecco Ahia Il film dove il bulletto Pratico in giro Quelli del liceo TR Dice tipo Si avvicina e fa Oh, look if it's not Captainish Over here Raga, chi è che ha freddato TR così? È lui che mi ha messo nell'angolino Mi sta andando col coltello Ma gli abbiamo appena dato Una cecchinata I am the worst murder ever Quanta gente intorno, man Quasi quasi piacere una Io ho Raga Lontani Sapete quella è una cosa bella? Dani è il murder Il pedo bear Con la tutina rosa È piazzato la lana rosa Mentre piccolo Che è verde È piazzato la lana verde E qua abbiamo spider pork Che piazza la lana rosa Beh, se vuoi guarda Piazzo quella arancio Non piazzare quella nera Perché se no ci offri la battuta subito Quindi siete già tutti con le lane lì Insomma Sì, ma raga Oggi le lane le stiamo trovando Con una rapidità Che non ha neanche senso Sì, esatto Eh, già Raga, ma dato che state facando Possiamo sostituire le lane Con il cotone No, no Dai Le sostituiamo con i pezzi di pelle Ma era solo un Ha ha joke Delle tue vittime Allora va bene Mi ha fatto ridere un sacco Oh, ma qui c'è una Una gassa Una che? Una gassa Una gassa? Cioè Ah, una cassa Non capivo Cosa stessi dicendo Pensavo stessi dicendo Garza e non capivo Ti ora sei un imbecille Lo so, grazie Me lo dice anche la mia mamma E non sto scherzando Devi smetterla di infilarti Le cicchie n'alfreddo Fettuccine nel naso Ah, ahia Raga, aiuto Emerald, rip Tipo over Quanto è sembrato, eh, emeraldo Quando fa tipo Ma quanto è marder Erenflades In questo momento Eh, quanto è marder Erenflades Quanto marder sei tu Parliamone No, no Quanto è Erenflades Ma guarda Maga Cioè, possibilmente Sarebbe in marder No, no Deve essere felice Lo sei tantissimo Le sei in marder Tu lo sai Battire le mani Vedi, vedi che è lui E uccidi Tech Vedi che era lui Te l'ho detto È arrivato il momento Di crepare Ciao, Erenflades Ti vedo, lo sai Cosa fai laggiù? Gorilla's Avete bisogno Di un cantante Di riserva chiamato Madonna È uguale Ma ci sta come cosa Siamo più brutti di loro in versione disegnata Figa Vabbè Grazie Fa sempre piacere Sentirsi apprezzati Scusa il Mardere deve essere insultato pesantemente E la madonna Hai capito stupido Non è che non sono al mare, stavo trollando Stupidino di un Eren Blaze Minimo è per la terza volta Tio Raga guarda sono vivi Siamo vivi soltanto noi due E Dani Ok dai sono io Io non sono Dani non può essere Cosa sono queste Puraggini E' stato un po' Appesa Queste epurazioni Oddio vi ricordate quando avevamo Non ti puoi nascondere qui Vieni Vieni No ho finito la carica Aia Dani Dani Alpo Ho mezzo cuore C'è Ti sono dietro Ti sono dietro Ce l'hai dei colpi in canna Dani Ti sto raggiungendo Resisti Resisti Ti vedo Ok Shot Shot dal professor Oak No Ah Aiuto Dani Sono al piano di sopra della cosa Della mansion Eh ok Perché stavo querendo col pugno alle mani Oh si è fermato Non mi sta più seguendo Mi cago in mano Padecchio anche ormai Eh si Teribile Insomma Puro la vita del martire Si Eh già Chi è E' mio tu? E' morto da solo sto cretino Si L'hai fatto fuori? Si Grande Dani E Dani per due volte vince lui la partita Prima con la lana e poi con l'uccisione Quanto pro Sì però Va bene che sei spuntato solo alla fine Però per un attimo ho interdetto dalla morte di Tyr Beh io volevo fare il parkour per nascondirmi nella mia posizione preferita E ho missato il parkour e sono morti da una caduta Va bene ragazzi Dati del S-Raptor per questo secondo video di Kuroi Marder è tutto Io spero che vi sia piaciuto Se così potete lasciare un bel like a base nella descrizione Da tutti quanti i miei social network E da tutti quanti i loro canali E noi ragazzi ci vediamo quando Domani O più tardi Non lo so Alla prossima Ciao Ciao a tutti Ciao 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 Ciao